Carlotta Valgnoli al Next Generation Fest, parliamo ahimè di violenza sulle donne, tu sei anche una survivor, ci tengo a ricordarlo. Qual è la cosa più importante di cui parlare ai giovani forse, proprio come innanzitutto riconoscere all'inizio, insomma, se si riesce questa violenza? Beh, ci sono sicuramente delle nozioni che si possono apprendere, che ancora nessuno ci ha insegnato, anche perché a scuola non se ne parla, in casa non se ne parla, in media riportano sempre in modo parziale quelle che sono poi le notizie di violenza di genere, dei casi di violenza di genere. Riconoscere quelli che sono i segnali si può, e questo può essere molto utile, si può riconoscere la possessività, quindi attento controllo del telefono, oppure degli spostamenti, non voler far uscire la partner con un rossetto rosso, una gonna o con un abbigliamento che viene ritenuto ancora troppo femminile, che può essere un trigger per l'uomo che invece è possessivo. Insomma, ci sono dei piccoli espedienti che rientrano nella violenza psicologica che possono essere carpiti prima. Sicuramente questo non basta, perché purtroppo i casi di cronaca ci insegnano che anche le donne che spesso denunciano non riescono a fermare poi quelli che sono gli atti finali di violenza di genere, ovvero il femminicidio. Quindi serve diametralmente anche un impegno a livello istituzionale, collettivo, anche dal Ministero della Pubblica Istruzione, proprio per iniziare a insegnare ai ragazzi prima e alle ragazze dopo di cosa si parla quando si parla di violenza di genere. C'è anche un'attenzione magari maggiore nei confronti della stampa, che a volte spesso si macchia di victim blaming, cioè si dà ancora oggi la colpa alla donna oppure si parla di follie di amore quando si raccontano questi omicidi? Assolutamente. Diciamo che a livello di stampa tradizionale, quindi di media tradizionali, c'è ancora molta reticenza a prendere quelli che sono poi i punti segnalati nel 2017 dal Manifesto di Venezia, che è un manifesto fatto da associazioni, sindacati, giornalisti e giornalisti, che appunto volevano mettere per punti quelli che sono i problemi del racconto, della narrazione mediatica dei casi di violenza di genere, in modo che non venissero più poi ripetuti, cosa che ahimè non è successa. Questo manifesto rimane lì e nessuno lo vuole usare veramente fino in fondo. Nella stampa si continua a dare un po' la colpa sottesa, un po' in modo subdolo alla vittima, anche in modo non subdolo, ci sono titoli come Il gigante buono e quell'amore non corrisposto, per esempio sul femminicidio di Elisa Pomarelli, che continuano a creare ancora più confusione, come se le donne un po' sottosotto se lo meritassero quella che poi è la loro tragica fine, quando in realtà non è mai colpa di chi subisce, è colpa di un sistema patriarcale di diktat che noi ci portiamo dentro dalla nascita e che non siamo ancora da solo in grado di scardinare. So che tu vai moltissimo nelle scuole proprio per fare prevenzione e anche educazione sentimentale, quindi qual è magari l'importanza di essere qui oggi al Next Generation Fest? Sono in mezzo al mio habitat, sono in mezzo a tantissime persone giovani e dalle persone giovani dobbiamo incominciare proprio a scardinare queste idee, queste idee sbagliate che poi ci portiamo dietro con molta facilità, ce le portiamo dietro inconsapevolmente. Farlo davanti a una platea così grande è utile perché appunto sono molto più recettive, sono molto più curiosa, la generazione Z è molto più curiosa di quanto lo fosse la mia, millennial o la generazione ancora precedente. Ci sono anche molti più strumenti, quindi social, l'informazione, anche l'infodemia ha avuto dei pro, oltre i grandi contro, quindi molto di più si parla di questi temi e poter lanciare un seme del dubbio davanti a questa platea è una grandissima opportunità. Grazie a tutti!